Avanzare quando sto vicino al salto, gamba forte e stengo, non mi pulco in avanti. Lavora il corpo con la gamba interna, avanza un po', avanza, ora dietro, ora dietro è calmo, 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 ok. Così, eh, avanzare e aspettare. Adesso facciamo questi saltini tutti insieme, eh. Facciamo una volta per un...